Ciao a tutti, sono Giacomo Cestari, benvenuti alle mie video lezioni di recupero digitale. Oggi parliamo di poligoni inscritti in una circonferenza. Quando si può dire che un poligono è inscritto in una circonferenza? Quando i suoi vertici sono punti della circonferenza. Quello che vedete è un quadrilatero inscritto in una circonferenza. Se io muovo questi punti sulla circonferenza rimane sempre un quadrilatero inscritto. Posso formarne tantissimi. Tutti questi sono quadrilateri inscritti in una circonferenza. Tra tutti i poligoni, i triangoli sono sempre inscrivibili in una circonferenza. Se non tutti i quadrilateri si possono inscrivere in una circonferenza, tutti i triangoli invece possono essere inscritti in una circonferenza. Ho tracciato i tre assi dei lati. Questa linea rossa è l'asse del lato BC e quindi è la linea perpendicolare a BC passante per il suo punto medio. Questa retta è perpendicolare a BD passante per il suo punto medio e questa retta è quindi l'asse dell'ultimo lato DC. Questi tre assi si incontrano in un punto detto circocentro ed è il centro della circonferenza circoscritta. I tre vertici del triangolo sono tre punti di questa circonferenza. Variando questi punti, come vedete, posso avere triangoli diversi e tutti questi triangoli sono sempre inscrivibili in una circonferenza. I triangoli ottusangoli, che hanno un angolo ottoso, avranno il circocentro che cade fuori dal triangolo. Come vedete, anche questo è ottusangolo. Quando arriva qui è un triangolo rettangolo, per la proprietà che abbiamo visto in uno dei video precedenti. Mentre quando il circocentro è all'interno sappiamo che il triangolo è acutangolo. L'idea del circocentro come punto d'incontro degli assi ovviamente vale per qualsiasi poligono. Quindi un poligono è inscrivibile in una circonferenza se gli assi dei lati si incontrano tutti in un unico punto detto circocentro. Quindi anche questo poligono, come vedete, è un quadrilatero. Questo è l'asse di VW e T è il punto medio. Questo altro asse è l'asse del lato WU con U1 punto medio del lato. Questo è l'asse invece del lato JU con V1 punto medio del lato e via dicendo. Se io sposto i punti lungo la circonferenza, ovviamente gli assi si spostano di questi lati, però come vedete sono sempre tutti, si incontrano sempre tutti in un unico punto e quel punto è detto circocentro della figura. Quindi quando una figura ha un circocentro è inscrivibile e il circocentro esiste se gli assi dei lati si incontrano tutti in un unico punto. Lo ripetiamo. Come faccio a capire se una figura è inscrivibile in un cerchio? Devo assicurarmi che questa figura abbia un circocentro e quindi traccio gli assi dei lati. Come potete vedere, questa linea è l'asse di questo lato, questa linea è l'asse di questo lato, questa linea è l'asse di questo lato e questa linea qui è l'asse di questo lato. Queste linee non si incontrano in un unico punto. Posso provare a spostare i punti nello spazio e vedere se riesco a far sì che queste linee si congiungano tutte in un unico punto. Se, appunto, una volta che ho tracciato gli assi, le linee si incontrano in un unico punto, ecco che, se disegno la circonferenza, passa per tutti i vertici del mio poligono. Fate attenzione perché ogni tanto ci sono degli esercizi come questo e vi viene chiesto di riconoscere se la figura è inscritta in un cerchio oppure no. Badate ai vertici perché questa figura sembra un triangolo, ma in realtà è un quadrilatero. Questo angolo, che sembra 180, in realtà, se andiamo a vedere quanto misura, è leggermente meno di 180 e quindi questi due lati non sono paralleli tra loro, cioè non appartengono alla stessa retta, quindi non è un triangolo, è un quadrilatero. Questo quadrilatero, che, ripeto, sembra un triangolo, ovviamente non è inscritto perché E, che è un punto di questo quadrilatero, è un vertice, non fa parte della circonferenza. A maggior ragione, se vedo che i vertici che non fanno parte della circonferenza sono addirittura due o più, quel quadrilatero sicuramente non è inscritto nella circonferenza disegnata. Ma non è detto che magari, disegnando un'altra circonferenza, non sia inscrivibile. Ho modificato la figura leggermente perché, così vi faccio vedere l'esempio, questa figura è evidente che non è inscritta in questa circonferenza, ma, adesso disegno gli assi, nel momento in cui ho gli assi, vedo che questi si incontrano in un punto. e allora, se disegno una circonferenza, vedo che questa circonferenza è circoscritta al mio quadrilatero. Quindi, negli esercizi, potete dire che il quadrilatero non è inscritto nella circonferenza disegnata, ma non è detto che sia inscrivibile magari in un'altra circonferenza. Ovviamente, in una circonferenza posso iscrivere poligoni anche con più di quattro lati, pentagoni, oppure tutti questi poligoni hanno la stessa proprietà, cioè, disegnassi gli assi dei lati, tutti questi assi si incontrano in un punto, detto circocentro, che è il centro della circonferenza circoscritta. Grazie dell'attenzione, spero di essere stato d'aiuto e alla prossima video-lezione. Per tornare alla playlist e vedere altri video sull'argomento, puoi cliccare qui. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, così avete tutte le novità sempre a portata di mano. Grazie, ragazzi. Buon proseguimento. Grazie a tutti.